Occhio! Dai! Ho ricevuto buone notizie dei miei comandanti. Che cosa mi dici? Il comandante Ateniese è morto. La megarida è pronta a cadere. Bene. Il lupo ha ordinato l'attacco. Sono lieto che tu sia qui per unirti alla marcia verso la gloria. Sono fiero di combattere con voi. Sì, ti sei guadagnato il tuo posto. Vinceremo per Sparta e per il lupo. Vieni. Dobbiamo raggiungere l'accampamento avanzato. Io sono pronto. Seguimi. Dobbiamo prepararci per lo scontro. Allora, parlami del lupo. È un grand'uomo. Volterà Sparta alla vittoria contro il Dio. No, no. Intendo che tipo di uomo è? Come padre. È ammirevole. Forte. Premuroso a modo suo. Ma a certe volte... Cosa? Niente. È solo... Ha lo sguardo assente. Sembra... Con fondamenti triste. Lui è il generale di Sparta. Ma è pur sempre un uomo. Nessuno vive una vita senza rimpianti. Ma... Sarà una battaglia diversa da ogni altra a cui ho preso parte. Sei pronto a fare a pezzi gli Ateniesi? Sono pronto a combattere. Un brutto giorno per Atene! Un giorno glorioso per Sparta! Un giorno glorioso per Atene! Un giorno rockare non è sia oltretà. Un giorno glorioso per Atene! Un giorno glorioso per Atene! Un giorno circa cinza di 3 possenzi. Un giorno glorioso per Atene! Un giorno di un giorno glorioso per Atene! Un giorno glorioso per Atene! Un giorno in seguito sia il ruolo per Atene! No, no, no! Continuiamo così! 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 quello che hai detto. Solo non capisco il motivo. Sono gli ordini, signore. Va bene. Sembra proprio che debba occuparmi di altre faccende. Grazie a tutti. Grazie a tutti.